FIATA FIATI UN DICOLA CONTRE il nuovo figlio e tra il mio bimbo ha un piede e ha anche un rischio ci sono un po' e un po' e un po' ma un po' anche se va un incolto si voler La moglie americana va la messa per 7-8 anni, si incinocchia e pregattia e manda un quadrino di marito e mio marito.